Dicevo, siamo in compagnia di Federico Levi a parlare di comunità, bene politico e bene comune e natura e tecne, a partire dal Defensor Pace di Marsilio da Padova. Opera pubblicata nel 1324, terminata nel 1324, che appunto costò la scomunica al suo autore perché interpretava il rapporto tra papato e impero, tra potere spirituale e potere temporale, in un modo che evidentemente contrastava con i progetti teocratici della Chiesa di allora. e anticipa alcune movenze della modernità, anche se non arriva a definire la democrazia, però sicuramente è un enorme passo avanti rispetto al sistema feudale, alla concezione del potere del sistema feudale. Quello che però ci interessa non sono tanto le conseguenze politiche del discorso di Marsilio da Padova, quanto le premesse teoretiche del suo discorso. Quindi vorremmo leggere insieme le primissime pagine per discuterle. Allora, la prima parte, il capitolo 2, si parla appunto della questione della tranquillità, della pace, diciamo, della comunità politica e del suo contrario, scrive Marsilio da Padova. Si tratta in qualche modo di capire che cosa è una comunità politica e perché questo, diciamo, l'essenza della comunità politica e quindi anche le cause che determinano la comunità politica, sono necessarie per capire che cosa è la pace e che cosa è il suo contrario. Mi sembra anche, tra l'altro, un procedimento tipicamente aristotelico, di procedere alla ricerca dell'essenza di un determinato concetto, la domanda anche socratica, no? Tiesti, no? Sì, esatto. Marsilio ha appunto la capacità di unire il pensiero aristotelico con delle intuizioni così agostiniane, platoniche e, come vedremo, anche con degli elementi di notevole originalità. Passiamo direttamente al paragrafo 3, laddove appunto si definisce, appunto per descrivere la pace il suo contrario, siamo d'accordo con Aristotele quando afferma che la città è come una natura animata o come un animale. Ora, questo riferimento all'animale, come vedremo, sarà molto importante nel resto del testo, perché infatti dice come un animale ben disposto, secondo natura, è formato da alcune parti proporzionate, ben ordinate da di loro, che si comunicano reciprocamente le loro funzioni in vista del tutto, così, se è stata ben disposta e istituita secondo ragione, la comunità politica è costituita da parti di questo tipo. Sembra esserci una relazione tra comunità politica, le sue parti e la pace, così come esiste una relazione tra l'animale, le sue parti e la salute. E la salute. Perfetto. E qui appunto sottolineiamo che la distinzione, quindi c'è un rapporto tutto-parti, che determina la pace e la salute e il rapporto tra tutte le parti nell'animale è secondo natura e nell'uomo, nella società umana, è secondo ragione. Quindi c'è questo scarto tra ragione e natura, che però ovviamente non può essere semplicemente un'opposizione. Quindi la domanda fondamentale è ma che rapporto c'è tra ragione e natura? Certo, che è già un aspetto, come dire, già filosoficamente interessante e problematico. Noi siamo portati magari a pensare che è natura dell'uomo avere ragione, ma la ragione non è uguale alla natura, quindi c'è una sorta di identità e differenza che bisogna pensare in qualche modo. Mentre siamo magari portati a pensare o una contrapposizione o a non problematizzare il rapporto. Cioè portando avanti un discorso per cui si dice o c'è la ragione da un lato e la natura dall'altro come due istanze ontologicamente anche contrapposte. Come ad esempio siamo portati a pensare anche magari in un modo con cui si ragiona anche in termini antropologici. Magari c'è la ragione che cerca di governare le pulsioni dell'uomo che invece sono naturali, ad esempio. Oppure viceversa si dice magari in maniera cartesiana, no? Fa parte della natura dell'uomo quella di essere razionale. La razza è l'umen naturale e quindi non si pone il problema del rapporto tra ragione e natura, semplicemente si sussume la natura sotto la ragione. Mentre qui non abbiamo nell'una e nell'altra cosa. Diciamo che c'è un rapporto che viene istituito per analogia, c'è la necessità di pensare questo rapporto nella differenza tra natura e ragione. Esatto. Quindi in un qualche modo... Questo torna più volte perché poi adesso come vedremo c'è anche il problema della genesi della comunità politica dalla natura, no? E quindi è lui stesso che poi dice questi due termini opposti, poi però in realtà trovano un movimento strano di separazione e quindi anche un'appartenenza reciproca. Insomma, e tutto il testo è giocato su questo, secondo me. L'altra cosa da notare è appunto che la salute, come dicono i medici più esperti, quando la descrivono, è la buona disposizione dell'animale attraverso la quale ciascuna delle sue parti può compiere perfettamente le funzioni che si addicono alla sua natura. Qui sarebbe la buona disposizione delle operazioni. Quindi c'è una conveniente disposizione delle parti che permette a loro di svolgere delle operazioni. La stessa cosa avviene nella comunità politica. La buona disposizione della comunità politica, grazie alla quale ciascuna delle sue parti, potrà compiere perfettamente le operazioni, qui è stesso termine, che usa le parti dell'animale, che si addicono secondo ragione e secondo la propria istituzione. Ecco, questo è molto importante. Qui aggiungo un altro termine. Non solo la ragione è lo specifico della comunità politica, ma anche l'istituzione delle parti. Certo, perché l'animale esiste perché le sue parti sono già da sempre istituite. Mentre nella comunità politica le parti sono oggetto di una istituzione. C'è un processo che porta alla loro istituzione e quindi la loro caratteristica e quindi le operazioni che svolgono sono istituite. E questo è anche interessante un po' perché ci permette di problematizzare meglio anche l'interpretazione un po' organicistica che uno sarebbe tentato a fare, no? Cioè l'analogia con l'animale, le parti degli organi, però l'aspetto dell'istituzione impedisce, come dire, di spingere l'organicismo oltre un certo livello, no? L'interpretazione organicistica perché l'istituzione non è esattamente la stessa cosa del corpo organico, biologico. Perché, come dici te, nel corpo organico la natura si esplica, poi può magari anche esplicarsi, involvere, diciamo, in un'organizzazione disfunzionale delle parti. Però in un qualche modo il meccanismo emerge senza la necessità dell'esplicazione della ragione della società e della cultura umana. C'è una ragione sia nell'istituirsi delle parti, sia nel loro funzionamento, che è sempre secondo ragione. E quindi non può essere che l'individuo è sussunto sotto la totalità e quindi perde la sua individualità. E solo attraverso la ragione può partecipare di quel tutto di cui è parte. Infatti. Questo mi sembra un'ottima osservazione. Allora, passiamo al capitolo 3, appunto sull'origine della comunità civile, che appunto segue da vicino, per certi versi, Aristotele e per altri invece se ne allontana. Dopo aver definito la pace come la buona disfunzione della comunità politica per il funzionamento delle parti, dobbiamo cercare di dimostrare di conseguenza che cosa sia la comunità politica e perché esista, quali siano e quante siano le sue parti principali, più in generale, la funzione adatta a ciascuna di esse, inoltre le cause e il loro ordine reciproco. Questo è proprio aristotelico, cioè c'è una sistematicità nel concepire l'essenza di qualcosa in tutte le sue parti e il suo funzionamento e il suo svolgimento. Ora, qui c'è una parte interessante. Lui scrive, prima di discutere della comunità politica, che è che la comunità perfetta, e il termine è effettivamente perfetta, perfetta comunitas, e la domanda è che cos'è la comunità perfetta, delle sue specie e dei suoi generi, per prima dobbiamo definire l'origine delle comunità civili, e civilium comunitatum, dei loro governi e modi di vivere. Da queste comunità, sebbene imperfette, gli uomini sono progrediti fino a comunità perfette, nei governi e nei modi di vivere. Leggiamo tutto e poi problematizziamo tutto, perché questo è un passaggio cruciale. Infatti, il progresso dalle cose meno perfette alle più perfette è proprio della natura e dell'arte che la imita. Infatti, non si può ritenere che gli uomini conoscono ciascuna cosa, a meno che prima non ne abbiano conosciuto le sue cause prime, i principi ultimi, fino agli elementi e questa è di stato. Allora, la cosa che io notavo, leggendo appunto il testo latino, è che, quindi, innanzitutto, lui parla del passaggio da comunità imperfette alla comunità perfetta. Ora, il problema del termine perfectus, che ovviamente non indica qualcosa di utopico o ideale, ma in senso aristotelico è qualcosa che è funzionante in sé completo, che è l'esito di un processo di crescita. Quindi, la comunità perfetta, la cosa, a noi è difficile capire questa cosa, ma in senso aristotelico è semplicemente là dove tende l'istinto sociale degli uomini, cioè, o comunque la socialità umana tende a compiersi in qualcosa che, quando c'è, noi la riconosciamo come la comunità compiuta. Prima di quello, ci sono delle forme di comunità che sono imperfette. Ora, i termini che usa per il passaggio dall'imperfetto a perfetto sono processerunt, che è appunto procedo, giungere al risultato, riuscire bene, quindi non è neanche un progresso, perché il progresso è una cosa che si accumula e rimane aperta, è proprio uno sviluppo che si compie. E anche, lo stesso termine, poi sottousa, e attenzione a questo è una cosa importante, quando dice che il progresso dalle cose meno perfette alle più perfette è proprio della natura e dell'arte che imita la natura. Qui ci sono due cose importanti, se non è da notare. Primo, che mentre prima ha usato perfetto in un senso assoluto, qui usa invece dalle cose meno perfette alle cose più perfette, quindi in senso relativo, minus perfectis ad perfeziora. Quindi è proprio l'idea di questo passaggio, come dall'embrione al feto, cioè da qualcosa che è meno sviluppato a qualcosa che è più sviluppato. Guarda, forse dico una banalità... Aspetta, e aggiungo l'ultima cosa, e questa cosa, appunto, abissale, dice come l'arte che imita la natura. Cioè, quindi, appunto, per problematizzare quel passaggio dalla natura, questa opposizione natura-ragione, ebbene, l'arte è effetto di ragione, e la ragione, appunto, a questo punto imita la natura, in qualche modo che ancora non abbiamo definito. Quindi, in questo passaggio, la relazione, diciamo, la perfezione, che è sia quindi un concetto, come osservavi giustamente te, assoluto, ma è anche calato in una dimensione processuale, per cui diventa anche relativo relativizzante, cioè perfezione in relazione a qualcosa. Lo vedi, in questo senso, calzante in Marsilio, come in Aristotele è ad opera, diciamo, la categoria di potenza ed atto per esprimere questa cosa? Secondo te è... Perché qui non parla di potenza ed atto, ma da come dicevi, sembrava un po' che, in qualche modo, andasse a parare lì il discorso. Sembra quello. Cioè, sembra la potenza ed atto, e ovviamente la causa finale, no? Cioè, il realizzarsi di qualcosa che è implicito. Ed è anche alla lettera, e poi dopo lo vedremo, quello. Però c'è qualcosa di strano, che non mi suona tanto, e che poi dopo suonerà sempre di meno, che non è totalmente aristotelico, e che aggiunge degli elementi particolari. Cioè, questo fatto di usare perfectus in due sensi diversi, perché appunto il perfetto come ciò che è compiuto in sé, e poi al tempo stesso però qualcosa che è meno perfetto e più perfetto. E allora c'è un movimento, come dopo dirò, c'è un movimento quantitativo e qualitativo al tempo stesso. Capito? C'è qualcosa che è nell'ordine del quantitativo, cioè dell'accrescimento, e poi però che sembra fare dei salti qualitativi, e quindi raggiungere delle forme. Per esempio, il termine forma non lo usa mai. Questo è interessante. Non usa mai il termine forma. Né atto né potenza, come non ti vu, né causa finale, non lo dice mai. Eppure, teoreticamente, è proprio un discorso calato dentro Aristotele, no? Vogliamo andare avanti nella lettura, tenendo fermi questi aspetti? Queste problematizzazioni. Dunque, procedendo su tutto questo metodo, che è appunto andare a cercare le cause prime, gli elementi costitutivi delle cose, non bisogna dimenticare che le comunità politiche, a seconda di diversi paesi e di diversi paesi, periodi all'inizio erano molto piccole, e ingrandendosi a poco a poco, alla fine sono giunte, qui il mio testo è falso, perché diceva una forma compiuta, ma non c'è in latino, non so com'è il tuo o la tua tradizione. Crebbero gradualmente, giungendo alla fine alla loro completezza. Ecco, questo è molto più attinente. La traduzione... La traduzione... Vai, 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 vai avanti, vai avanti. ...che accade in ogni opera della natura o dell'arte, qui vedi che mette proprio sullo stesso piano, la natura e l'arte, come ciò che attraverso un, attenzione, incrementum, quindi il termine quantitativo, l'incremento, aggiunge a un complementum, che non è un termine complementum, vuol dire, sì, certo, qualcosa che è completo, però non è la forma, e non è l'entelechia, non è il telos, cioè è un linguaggio che è molto misurato. L'incremento porta un complemento, non è la forma, anche se è chiaro che dietro c'è il pensiero della forma, ma lui non lo dice. E anche tu dici la completezza, dice lì nella tua traduzione, che forse è più aderente, però insomma è interessante questo linguaggio, no? Cioè, completezza, vorrebbe un po' richiamare il suo opposto, che è la mancanza. Però è interessante perché nella categoria di potenza e atto non è che c'è in realtà proprio una mancanza. Giusto, bravo. È solo una tendenza evolutiva, la potenza è tale, è il suo essere, perché tende a un atto, ma non è mancante in se stesso, è quello che è. Bravissimo. È potenza, mentre qui no. Esatto, esatto. Infatti non usa potenza e atto, perché sarebbe, nel senso che dici tu, invece no, è proprio qualcosa che manca, un movimento, come dire, quasi cieco, che a un certo punto vede la luce. c'è un metafora sbagliata, però per dire un brulicare, questo incremento, un brulicare che a un certo punto acquista una sua totalità e una sua chiusura. Quindi fondamentalmente stiamo andando alla ricerca della comprensione della comunità perfetta, partendo dalle prime comunità che in se stesse sono mancanti di qualcosa, per le quali sono comunità, ma sono comunità in uno stato imperfetto, incompleto. Esatto. Ok. Incompleto. Esatto. Allora qui, vabbè, qui potremmo anche velocizzare, perché ci richiamo molto Aristotele, dicendo appunto che il nucleo originario è la famiglia, l'uomo e la donna. E interessante, qui ho invece la nota dei bravi, conetti, fiocchi, radici, Simonetta, che dicono nella descrizione che fa Aristotele c'è anche all'inizio il rapporto tra padrone e serbo, mentre invece in Marsiglio non c'è, ma probabilmente anche perché lui è cristiano e quindi evidentemente che il rapporto padrone-serbo sia l'origine della comunità politica forse non gli va tanto bene. Poi ipotizzo io, non lo so questo. Dopodiché, gli uomini vivono in un, paragrafo 4, gli uomini vivono in un'abitazione, in una domus, e tutti i loro atti, specialmente quelli che dovremmo poi chiameremo civili, erano stabiliti dal più anziano. Ok? Quindi abbiamo il Senex, che è colui che senza legge, senza consuetudine, giudica del comportamento dei suoi familiari. E ovviamente lui dice, non c'è bisogno della legge, perché anche nel caso dell'offesa più terribile, come l'omicidio, lo dice subito dopo, nel paragrafo, il capofamiglia avrebbe potuto, se voleva e senza danno, non punire il colpevole con la pena capitale, sia perché si riteneva che l'offesa fosse stata fatta solo al padre, a cui toccava perdonarla, cioè visto che l'offesa è stata fatta ai miei familiari, sono io che devo eventualmente punire o perdonare, e se perdono, questo è del tutto lecito, sia perché appunto poi mettere a morte un altro figlio gli avrebbe provocato un doppio dolore, no? Questo è interessante, quello che dice qui Marsilio. Mentre invece, quando si passa ai villaggi, e quindi all'insieme di più famiglie, attraverso un incremento della popolazione, una crescente propagazione, così chiama la chiama, ovviamente questo non è più possibile, lo dice successivamente, perché appunto, no, lo dice qui proprio, perché se poi dopo il Senex, l'anziano, non giudica i torti, ovviamente questo porta alla guerra intestina, e alla separazione della comunità, e alla discordia, no? Quindi in questo senso. Quindi sta un po' suggerendo che sulla spinta dell'incremento quantitativo, si genera la necessità di una modificazione nella forma qualitativa, già adesso, nella forma villaggio, e la forma, diciamo, di comunità primitiva, sono due forme diverse, non solamente perché ci sono più abitanti, ma perché cambia, come dire, la logica dell'ordine, e della pace, al suo interno. Esatto. Ok. Esatto. Perché i rapporti interni, si differenziano, questo è importante, cominciano a differenziarsi, perché evidentemente non è più una famiglia, sono più famiglie, e quindi i rapporti tra più famiglie inevitabilmente non possono più essere regolate come prima. Sì. E quindi comincia a sorgere la necessità di una regola di convivenza tra le famiglie, scritta o non scritta che sia, che è determinata proprio dal differenziarsi degli elementi della comunità. Sarebbe qua interessante, ma lo dico proprio come di un passant, tentare una comparazione con riflessioni differenti, ma tutto sommato che vanno comunque a osservare lo stesso fenomeno, cioè la nascita delle comunità in Freud, nel disagio della civiltà. Però, diciamo, dove lì invece è come dire, l'uccisione, di cui parla adesso qua, Marsilio, l'uccisione possibile, il pericolo che c'è all'interno delle piccole comunità, lì viene trattato diversamente, cioè come genesi del senso di colpa, dove quindi la legge non emerge, non c'è come dire, l'emersione della legge positiva, c'è innanzitutto l'emersione della legge interiore del senso di colpa, da cui nasce l'etica, da cui poi nasce il nomos. Però, vabbè, questo è un attimino. Poi magari in un secondo... Cioè il senso di colpa è il calco negativo della legge, cioè da cui poi positivamente si estroflette la legge. Sì, esatto. E questo è molto bello ed è interessante perché apparentemente, cioè un altro modo per dire che appunto la relazione che poi crea la comunità è qualcosa che non è astratto, che proprio nasce dal tentativo, di regolare qualcosa che però parte dall'interno. E lì, vabbè, Freud è inconscio, poi c'è la... Certo. C'è il senso di colpa, come dici tu, l'omicidio primordiale. Qui la cosa che forse poi dopo potrebbe andare in quella direzione, magari dopo lo riprendiamo quando parla delle pulsioni contrastanti nell'individuo. Ok, sì. Potrebbe essere simpatico riprendere questo tema un attimo. Perché appunto, apparentemente qui avviene tutto in maniera molto spontanea. Cioè, il malattico dice, beh, c'è questo aggregarsi e poi si comincia a cercare di evitare la disgregazione. Di fatto, sì. E la differenziazione che inizia, anzitutto è un fattore problematico perché differenziandosi le parti, cioè essendo famiglie e non più una sola famiglia, questo rende più difficile l'aggregazione. però al tempo stesso costringe a pensare la norma attraverso la quale l'aggregazione è in modo di risulta possibile, cioè la giustizia. E infatti dice, subito dopo, ancora essendo si moltiplica i villaggi con l'incremento della popolazione, come scritto nella politica Libro Terzo, erano governati dal più anziano da chi era ritenuto migliore. Sebbene questi ordinamenti fossero meno imperfetti di quelli con cui venivano ordinati nel singolo villaggio e vicina, tuttavia nelle prime comunità non hanno avuto quelle prime comunità non hanno avuto una tanto grande distinzione e disposizione delle parti, eccolo qua, ne hanno posseduto il complesso di arti necessarie e di regole di vita come se ne è poi ritrovata nelle comunità perfette. Talvolta infatti lo stesso uomo era governante, contadino o pastore come Abramo e molti discendenti, cosa che non si addice alle comunità perfette ne sarebbe premessa. Ecco il punto. Successivamente a cresciutesi queste comunità si costituiscono appunto attraverso le arti i modi di vivere migliori, eccolo qua, modi vivendi perfeziones, quindi modi di vivere più perfetti e i modi di vivere più perfetti portano alla comunità perfetta. Soltanto allora sono state portate a compimento grazie alla ragione e all'esperienza degli uomini le cose che sono necessarie al vivere e al vivere bene ed è stata istituita la comunità perfetta chiamata città con la distinzione delle sue parti che chiameremo che cercheremo di determinare in seguito ed ecco qua complementum ritorna e attraverso la ragione e l'esperienza la ragione e l'esperienza sono la base del perfezionamento delle arti che però porta a una comunità che è definita perfetta non più perfetta questa è la cosa che sottolineavo all'inizio cioè le arti si perfezionano in maniera indefinita ma c'è come un livello al di sopra del quale si costituisce quella che lui chiama la comunità perfetta cioè la città cioè la comunità vera e propria mentre prima d'allora ci sono solo dei tentativi di costruire una comunità non so se tu sei d'accordo con questa lettura o se noti cose che io magari non vedo no 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 ci stavo solamente riflettendo sopra e diciamo trovo trovo molto interessante che in questa genesi della città perfetta e condivido che quindi in qualche modo su questo aspetto cioè la perfezione richiedeva una determinata forma secondo questa riflessione e questa forma è la città c'è la genesi stessa della ragione cioè qua c'è anche una storia della genesi della ragione della razionalità esatto sulla scorta di una necessità politica che ancora non è nemmeno propriamente politica perché se etimologicamente no politica nella sua perfezione è già nella città però la necessità del superamento della discordia genera la ragione e quindi c'è una relazione tra ragione e potere anche tra ragione e organizzazione delle relazioni di potere che è interessante però non voglio su questo prendere bellissimo no no hai detto esattamente proprio la cosa che mi sembra interessante è la politicità della ragione cioè la ragione è politica nella sua radice esatto la politica non è un'applicazione della ragione esatto in un modo però che non è appunto russoviano cioè come degenerazione di una purezza originaria è proprio il ribaltamento è ribaltamento esatto totale anche se sulla funzione delle arti che appunto non hanno una funzione di degenerazione ma come adesso vedremo di compimento però su questo tema è interessante una problematizzazione perché prima Marcello non aveva detto che le arti erano imitazione della natura un po' come a voler dire no tendono a a una cosa che come loro modello no se la natura è modello per le arti si presume che il modello sia più perfetto dialetticamente di ciò che quindi uno potrebbe dire no uno potrebbe essere tentato di avviare una lettura per la quale uno dice la comunità umana con le arti cerca di recuperare in sé quell'elemento di perfezione naturale che gli manca ma allora uno dice beh allora tanto più era vicina alla natura la comunità umana tanto più era vicina la sua origine però allora si ribalta il discorso perché allora le prime comunità sono le più perfette si torna si fa un discorso orsoniano ma non è quello che ci sta dicendo Marsilio quindi è interessante cercare di stare su questo scatto però tenendo presente questa relazione di imitazione che è una imitazione un tema secondo me cioè sembra comunque più atonico esatto lui la butta lì eh non lo so non anche io perché lui la butta lì però è la cosa che crea più problemi in questo discorso infatti quindi teniamolo lì e vediamo capitolo 4 sulla causa finale della città no ho sbagliato causa finale lo dice nel titolo però della città e interrompio i requisiti civili e sulla divisione delle sue parti in generale allora qui entriamo nelle questioni teoretiche che mi hanno fatto sommalzare allora secondo quanto afferma Aristotele nella politica la città è la comunità perfetta che come suol dire è completamente autosufficiente istituita per vivere ma che esiste per vivere bene ora e no finiamo un attimo il paragrafo poi vediamo alcune cose ciò che ha detto Aristotele istituita per vivere ma che esiste per vivere bene indica la causa finale eccolo qua perfetta della comunità politica poche coloro che vivono in modo civile non solo vivono come fanno gli animali o gli schiavi ma vivono appunto una vita buona vivono bene dedicandosi così ad attività liberali come quelle proprie delle virtù dell'anima sia pratica che speculativa queste sette righe otto righe sono piene di questioni teoretiche interessantissime allora cominciamo dalla definizione allora qui dice perfecta comunitas abens terminum per sé sufficiente ok ora questo significa è la traduzione latina del di un passo di Aristotele dove in realtà letteralmente sarebbe che la comunità perfetta ha possiede il limite perché terminus è limite proprio è il limite per sé io direi attraverso se stessa che la rende sufficiente ora in greco sono limite è proprio limite è proprio peras e sufficiente è autarcheias quindi è l'autarchia che però in latino non è proprio la stessa cosa non è proprio la stessa cosa e infatti tutto il testo di di Barsilio non usa il termine autarchia ma usa il termine sufficienza che dà un ritorno a quella duplicità tra quantitativo e qualitativo che accennavo prima perché che cosa vuol dire che si raggiunge il livello sufficiente da un punto di visto quantitativo vuol dire che arrivi al limite oltre il quale non devi andare cioè se o meglio il limite minimo che ti serve per al tempo stesso la sufficienza è l'autosufficienza nel senso della completezza e quindi va nel senso del qualitativo cioè della forma raggiunta certo io credo che il sbaglio perché poi non sono latinista quindi però questo uso del termine sufficiente al posto di autarchico fa una certa differenza nel nel discorso di di Marsilio considerando che l'altra questione molto importante è che il c'è la duplicità tra bene e vivere bene dove lui dice animali e schiavi vivono ma non possono bene vivere perché il bene vivere il vivere bene che lui non specifica certo Aristotele credebbe certo in vista del bene avendola bussiavo di discutere del bene ma lui non lo dice e neanche dopo lo dice in realtà distingue questo vivere e vivere bene e dice l'uomo vive bene o può vivere bene e solo laddove può vivere bene vive veramente in maniera umana come espletando appunto le virtù dell'anima attraverso le arti sia in senso pratico che in senso speculativo quindi questo è il quadro teorico in cui lui inserisce il suo discorso sulla vita sul bene vivere che entra in rapporto con tutto quello che ha detto prima sulla genesi della comunità ed è importante comunque che tutto questo venga inquadrato nei termini aristotelici di causa finale che quindi spingerebbe un po' anche andare a riconoscere forse nel paragrafo precedente la necessità del superamento della discordia come causa efficiente dello sviluppo ma ancora non del tutto consapevole di sé cioè la causa efficiente dello sviluppo è le necessità che di volta in volta si presentano alla comunità magari immagino che il passaggio dalla comunità primitiva al villaggio non fosse stato compreso tra chi ha vissuto il passaggio storicizziamolo anche un po' diciamo per semplificare il discorso non fosse stato inteso nei termini di un ok passiamo dal vivere al vivere bene sarà stato diciamo problematizzato a seconda delle necessità vitali che si presentavano e non c'era magari ancora la struttura di un telos di creazione dell'istituzione di una progettualità sociale politica di un certo tipo quindi funzionava però già da causa efficiente del progresso del processo però questo non lo dice Marsilio forse è una forzatura del testo ma di sicuro se c'è una causa finale in un qualche modo per completare secondo me sì tutto quello che ha detto fino adesso è nell'ordine della cosa efficiente è sicuro che poi la cosa efficiente sia concomitante o in qualche modo accompagnata da un finalismo questo è Aristotele e lui sicuramente lo crede anche però la cosa bella è come lui le dice le cose le dice in un modo diverso questa è una cosa fantastica dunque dopo aver definito il fine della comunità politica che è il vivere e il vivere non è vivere bene dobbiamo parlare in primo luogo del vivere e dei suoi modi infatti la comunità politica è stata istituita per questa ragione ed è la necessità di tutte le cose che esistono in essa e che sono prodotte dall'associazione degli uomini qui associazione in realtà è la comunicazione che è la relazione reciproca tra gli uomini quindi ciò che esiste nella comunità politica la necessità e tutte le cose che esistono nella comunità politica derivano sono state prodotte dalla relazione tra gli uomini sono prodotte della relazione quindi quando gli uomini entri in relazione producono qualcosa di nuovo in natura che è poi nell'ordine della ragione però la ragione si costruisce nello stesso rapporto tra gli uomini nella stessa relazione quindi l'uomo è quell'ente naturale che lo metti entra in relazione e produce la ragione esatto infatti sembra così noi stabiliamo questo come il principio di tutte le cose che devono essere dimostrate sostenute naturalmente sostenuto naturalmente creduto e ammesso spontaneamente ecco questo è il punto tutti gli uomini non mutilati o impediti per altre ragioni desiderano naturalmente una vita sufficiente ecco il termine che a me ha fatto un grande problema è certo è certo perché che cos'è la vita sufficiente è il vivere è il vivere bene boh non è così chiaro qui i commentatori dicono che vita sufficiente è la vita umana propriamente umana è la vita felice però adesso quello che lui dice nelle righe eminenti successive è esattamente il contrario perché lui dice che ogni essere umano desidera una vita sufficiente desiderano evitare le cose a essa dannose è stato riconosciuto che questo principio è vero non solo per l'uomo eccola ma per ogni genere di animale secondo quanto affermato di Cicerone dal Vente Ufficis e citazione di Cicerone fin da principio la natura ha concesso a ogni genere di esseri animati di proteggere se stessi la vita e il corpo di evitare quelle cose che sembrano nocive di procurarsi e di servirsi di tutto ciò che è necessario per vivere e quindi la vita sufficiente non è la vita degna dell'uomo la vita propriamente umana è qualcosa che appartiene a tutte le specie viventi io leggo così quindi si verrebbe da dire forse forse quello che intende è il principio di una vita in salute semplicemente è probabilmente sì cioè della vita dove la giusta disposizione delle parti viene soddisfatta ma secondo te nell'individuo o nella comunità perché io allora a questo punto cominciamo a sospettare che vita sufficience sia la vita che l'individuo aspira per se stesso cioè una vita in cui può avere quello che vuole è evitare i danni e questo avrebbe senso dire che tutti gli esseri viventi lo cercano non lo so certo come te dici come ogni singolo animale cerca la propria no? col proprio istinto salute la propria salute lo stesso discorso valga anche per gli uomini beh lì però allora si pone però in generale il problema di qual è poi l'essenza della natura umana si pone un problema proprio antropologico e diciamo infatti dopo lo dice dopo lo dice infatti dopo lo dice esatto infatti dopo parla parla proprio di quello allora ma lo stesso vivere quindi paragrafo 3 e il vivere bene compiene agli uomini in due modi uno è chiamato temporale terreno l'altro eterno celeste vabbè poi dopo qua dice i filosofi hanno sempre indicato su che cosa è la vita nell'aldilà mentre hanno dimostrato che cosa vuol dire vivere e vivere bene nell'aldi qua ok e qui appunto c'è Aristotele tutti gli uomini sono spinti da un impulso naturale eccetera eccetera ecco qua tuttavia ci sei alla citazione di Aristotele subito dopo si si ci sono tutti gli uomini sono spinti ad essi cioè alla vita comune da un impulso naturale tuttavia malgrado ce lo insegni l'esperienza sensibile ok qui l'esperienza sensata desiderano desideriamo esporre con maggior precisione la causa di cui abbiamo parlato affermando che l'uomo è formato da parti contrarie e a causa delle loro azioni contrastanti e delle passioni quasi continuamente viene alterato qualcosa nella sua sostanza ah ecco ecco l'essere umano nella sua sostanza quindi l'individuo nella sua sostanza è un essere contraddittorio fatto da pulsioni contrastanti qui è bello riprendere Freud l'individuo stesso dentro di sé ha una lotta intestina che in qualche modo gli impedisce di essere uno unitario e addirittura viene alterato continuamente qualcosa della sua sostanza quindi non può sussistere da solo l'individuo umano la sua stessa sostanza si dispa è destinata a disfarsi e rinforza questo subito dopo dicendo d'altra parte poché è nato nudo indifeso soggetto a patire le forze dell'aria che lo circonda e di altri elementi come viene detto nella scienza naturale per evitare i danni che abbiamo sopra ricordato ha avuto bisogno delle arti di diversi generi e specie quindi le arti sono un complemento usiamo così in termine però in senso derridiano cioè qualcosa che va a un supplemento della sua stessa natura della sua stessa sostanza cioè l'uomo ha bisogno delle arti per essere pieno perché la sua sostanza non vada perduta perché altrimenti si dispa come individuo e poi che queste arti non possono essere esercitate se non da un insieme di uomini e non si possono ottenere se non grazie alla loro associazione essi hanno dovuto unirsi per conseguire grazie a queste arti ciò che è vantaggioso ed evitare ciò che non lo è eccola là le arti vanno e quindi la comunità è ciò che permette all'individuo di sussistere e quindi può cercare una vita sufficiente una vita sufficiente da solo come individuo no come individuo no come tutti gli animali lo cerca ma può farlo soltanto associandosi agli altri sviluppando le arti che gli permettono di tenersi non spaldarsi non disfarsi io l'ho letta così questa ma che sono rimasto folgorato anch'io beh questa è proprio la nascita dell'antropologia filosofica anche no di questa idea dell'uomo che nasce nudo e indifeso lo stato con sostanze il momento negativo di mancanza e impotenza come tratto originario dell'uomo eh sì eh sì cioè è come se io mi ho raccontato questo come se l'uomo dovesse per esistere passare dalla molteplicità delle sue passioni contrastanti all'unità che gli garantisce l'esistenza condivisa e quindi anche le regole e cioè le arti che gli permettono di soddisfare i suoi bisogni e quindi da una mancanza strutturale a ciò che è il supplemento che permette in qualche modo di colmare questa questa mancanza ma allora la domanda però diventa anche quella per cui quindi fino a che punto è necessario all'uomo perché uno potrebbe dire ok sì nasce l'uomo costitutivamente nudo e indifeso e si unisce per poter vivere perché parlare di vivere bene perché in questo senso fare è altrettata la domanda potrebbe essere ok se è necessario il nesso per cui l'uomo vive in società perché uno potrebbe anche voglio dire interpretarla come un in questi termini no cioè la comunità viene istituita per garantire a ognuno dei suoi membri un minimum di condizioni senza le quali non può l'essere umano da solo non potrebbe vivere c'è una necessità in Marsiglio per cui l'unione permette rende necessario che sia un compito della comunità quello di permettere non solo di vivere ma di vivere bene perché d'altronde lui gli esempi che fa quando parla anche degli schiavi degli animali che semplicemente vivono sono esempi di chi già comunque vive e lo schiavo è tale perché è collocato nella posizione di schiavo in società uno potrebbe dire ma la società questo il suo compito è quello di garantire a tutti il necessario per vivere poi è compito del singolo evolversi e vivere bene lo so sto problematizzando il testo in un certo senso bisogna capire adesso lui che intende per vivere bene perché ancora non l'ha detto infatti perché lui dice sempre vivere e vivere bene e poi questo vivere bene ancora non l'ha non l'ha esplicitato ok tra gli uomini ok poi paracato 4 poiché tra gli uomini sorgono litigi e risse che non regolate la norma e giustizia coserebbero dispute e divisioni tra gli uomini e lo svitolamento della comunità politica gli uomini hanno dovuto stabilire in questa società una legge e il suo custodio è un autore ok questo custodio è il potere di allontanare coloro che si comportano in modo offensivo e gli altri singoli individui che tanto all'interno quanto all'esterno agitano tentano di opprimere la comunità si è dovuto fare in modo che questa possedesse gli strumenti con cui resistere ad essi e vabbè e questa è la nascita insomma della giustizia ora no mi interessava invece ecco l'ultimo paragrafo eccolo qua allora adesso siamo arrivati al punto che nascono questi ordini o uffici che sono le articolazioni della comunità politica cioè le parti di cui è fatta la comunità politica allora su quest'ultima parte su quest'ultimo capitolo andiamo più velocemente però andriamo le fila del discorso che abbiamo fatto cioè lui dice appunto che ci sono le varie classi sociali aristoteliche quindi c'è l'agricoltura l'artigianato l'esercito la milizia il sacerdozio la parte giudiziaria e la parte finanziaria sì e dice appunto perché nascono prima però questo diciamo lasciamo un attimo sullo sfondo quello che è interessante è anzitutto quando dice paragrafo 2 a metà citazione dal De Anima riprende la questione della vita sì il vivere è l'essere delle cose viventi in questo senso la vita non è altro che l'anima classico talvolta il vivere è considerato come un atto un'azione una passione dell'animo della vita d'altra parte entrambi questi significati vengono usati in due modi o riferiti come traduce lì perché qui il testo è un po' strano riferiti all'individuo o riferiti a un essere simile che chiamiamo specie aspetta che sono riprendiamo al paragrafo al 2 no? sì dove c'è la citazione del De Anima a metà infatti sto cercando il primo genere di vita umana ah eccolo sì ok allora il primo genere di vita umana quello terreno viene talvolta considerato come se significasse l'essere delle cose viventi come nel libro secondo del trottato De Anima il vivere è essere per le cose viventi e in questo senso la vita è nient'altro che l'anima altre volte invece intendiamo il vivere come se indicasse l'atto l'azione o passione dell'anima o della vita e inoltre ognuno di questi significati è usato in due modi secondo che si riferisca a ciò che è numericamente identico o invece a un altro essere simile che è quello della specie quindi più o meno diciamo l'individuo e la specie non è chiarissimo in cui quello che vuole dire la cosa però che mi sembrava interessante è che appunto come dice dopo il vivere nell'essere umano come dice dopo sebbene il vivere in ciascuno dei due modi specificati sia proprio dell'uomo sia comune lo stesso e le altre cose animate e dipende da cause naturali questo vivere che dipende dalle cause naturali è oggetto della scienza fisica e quindi non ci interessa mentre la nostra analisi nelle ultime tre righe presenta la nostra analisi tratta dei modi di vivere in quanto vengono portati a compimento dall'arte e dalla ragione per le quali vive il genere umano ecco qua cioè per i quali vive il genere umano quindi c'è un vivere che è appunto determinato dalla natura e quindi evidentemente c'è una completezza del vivere o un un essere del vivere cioè l'uomo vive la sua anima compie delle azioni perché è naturale ma poi quello che interessa a lui è appunto l'aspetto delle arti e della ragione ed ecco qui il punto cioè lui dice tutte le classi sociali sono determinate proprio da bisogni specifici dell'essere umano quindi dice siccome il nostro corpo è fatto di contrasti di equilibri è un temperamento di equilibri diversi passioni eccetera questa virtù diciamo nutritiva si deve in qualche modo deve essere compensata dall'azione dell'agricoltura e quindi ecco perché esiste l'agricoltura e la caccia lui lo fa rientrare nel genere dell'agricoltura una cosa interessante che dice qui è che appunto questi equilibri possono essere raggiunti solo per mezzo di qualcosa che la ragione stessa produce cioè le arti quindi l'equilibrio nel corpo ha ragione e arti costituiscono un insieme inscindibile inscindibile non ci può essere ragione senza arti e non ci può essere ragione senza le passioni il contrasto interno dell'uomo la composizione del suo corpo anche proprio da un punto di vista anche fisico questo mi sembra io appunto cerco di interpretare perché è molto densa questa parte sì 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 per quanto comunque rimane il rapporto per cui la ragione è chiamata in qualche modo a ordinare questi elementi in contrasto però scaturisce dal contrasto di questi elementi esatto scaturisce dal contrasto degli elementi e non può regolarsi senza trasformarsi in arte nelle arti nella tecne quindi è una triangolazione inseparabile una cosa è chiara o contro ogni dicotomia per cui si dice la natura umana dal lato la tecne da un altro la snaturazione dell'uomo esatto assolutamente niente niente dopodiché vabbè la seconda classe la classe appunto delle arti meccaniche ecco questo è interessante nasce perché il nostro corpo entra in relazione con gli elementi esterni e le azioni che compiamo in riferimento a questi elementi esterni portano a necessità dei cibi dei bevandi delle medicine i veleni eccetera eccetera quindi una cosa interessante di questo però specifica meglio dopo e poi ci sono le azioni appunto immanenti che sono quelli i desideri i pensieri e le azioni transitive cioè quelle che vengono compiute nei confronti di un altro essere esterno allora paragrafo 5 per regolare tutte le azioni e le passioni e per portarle a compimento in ciò a cui non può portare la natura attenzione quindi nell'essere umano la natura da sola non basta a portare a compimento le azioni che rendono possibile il vivere sono stati scoperti diversi tipi di arti e altre virtù e sono state istituite diverse funzioni umane per soddisfare le visioni umane ok e ha i bisogni qua traduce con desideri ah dove? rispetto a quello che ho detto diversi gene di arti e di altre virtù e sono stati pur istituiti diversi uffici umani per esercitarli allo scopo di soddisfare i desideri umani però no perché è indigenziam ecco e allora e allora qui attenzione propter supplendam umanam indigenza per fare da supplemento all'indigenza umana abbiamo evocato del ridà senza saperlo e ci stava ok e qui appunto dice quella cosa che dicevo prima le varie funzioni sociali allevamento eccetera eccetera invece nel paragrafo 6 si dice ah no aspetta no prima leggiamo le quattro righe finali di questo paragrafo meraviglioso in cui dice io qua non voglio interpretare troppo però lui alla lettera dice questo allora dove dice appunto campo campi allevamento opportunamente ricondotto tipi di caccia animali e bla 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 tutte le altre arti con cui si procura il cibo con una certa trasformazione ossia viene preparato per essere mangiato affinché ciò che viene perso dalla sostanza del nostro corpo venga riacquistato per mezzo del cibo e per questo il corpo si mantenga nel suo essere immortale fin dove la natura lo ha concesso all'uomo ed è proprio immortale cioè praticamente il corpo umano è questa strana sostanza che perde cose che riacquista cose attraverso le funzioni di lavoro il nutrimento e il corpo umano è immortale finché non muore finché non muore è bellissimo che è immortale finché non muore questo è bellissimo il corpo il corpo umano è immortale finché non muore perché perché è questo perdere sostanze riacquisire sostanze quindi è come una macchina che funziona perfettamente però certo ha un tempo che gli ha dato dalla natura esatto dopo di che cessa di svolgere quella funzione se no è immortale sì sì esatto è favoloso ok e qui c'è appunto questa questione e qui veniamo alla volontà e questo è fondamentale torniamo a Freud perché qui parla invece degli elementi che circondano dall'esterno il corpo e tutte le attività cioè le arti meccaniche come dice Aristotele nella politica citazione nel paragrafo 6 sì fabbricare le scarpe bla 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 ok nella frase successiva dove appunto dice di queste attività dei sensi si addicono al piacere alla volontà voluptatem e al vivere bene più che alla necessità della vita ecco qua quindi tutti questi piaceri che derivano dalle arti meccaniche si addicono al vivere bene più che alla necessità cioè mentre prima parlava della sostanza umana che si sfalta e ha bisogno di ricompattarsi attraverso il nutrimento e quindi la base poi ci sono delle arti diverse diciamo superiori non lo so le arti meccaniche che invece riguardano il rapporto tra la nostra sostanza e gli elementi esterni che non devono in qualche modo entrare ma che la essa entra in relazione con queste altre altri elementi e qui ha invece a che fare con la voluptatem quindi con il piacere con la voluptas quindi con il piacere e riguarda il bene vivere e non vite necessitate e qui recupera questa nozione del vivere bene che al momento c'è ancora oscura però in qualche modo ci spiega come si presenta in una sorta di scala di progressione per cui tu intanto sviluppi le arti per soddisfare gli aspetti più meccanici interni o le relazioni esterne di natura legate al principio di necessità appunto e poi invece ci si evolve ci si eleva a un principio ancora più alto che allora sembrerebbe qui da mostrare cioè qui ancora non definisce l'idea il concetto di vivere bene però sicuramente lo evoca in contrapposizione con l'idea di necessità della vita quindi una verità per necessità e una verità per opposto necessità non lo so per libertà però la cosa interessante è che no sicuramente va a finire lì nel senso che poi la comunità politica permette anche la deliberazione e la decisione sicuramente però è interessante che il salto è fatto da un punto di vista del piacere cioè l'essere umano e appunto io con questo evocavo Freud non soddisfa dei bisogni ma goda il godimento senza il godimento non vive una vita umana quindi certo certo il desiderio è il desiderio più che il bisogno questo poteva essere un punto interessante ora e chiudiamo perché appunto abbiamo detto parecchio e siamo tutto sommato abbiamo detto gli elementi centrali di questo discorso perché poi dopo c'è la questione appunto della giustizia che riguarda l'azione transitiva cioè siccome quando io agisco agisco anche posso agire nei confronti di altri ecco lì che c'è bisogno di un equilibrio e qui parla proprio della equalitatem della proporzio della proporzione quindi allora il concetto di giustizia nasce interessante quasi matematicamente dal fatto che le interazioni tra gli esseri umani debbono corrispondere a una geometrica uguaglianza quindi il fare e il subire non possono eccedere dei limiti altrimenti la giusta misura discussione la giusta misura ok è anche una cosa interessante perché esiste la milizia perché esistono i guardiani perché esiste il corpo armato perché altrimenti una città potrebbe essere ressa schiava da un'altra e perderebbe la sua sufficienza e quindi perderebbe ciò per cui ciò senza la quale non ci sarebbe una vita buona questo è però interessante perché questa interpretazione cioè la necessità della milizia spiega perché poi il termine di sufficienza con cui che viene adoperato comunque ha in sé indubbiamente l'elemento dell'autarchia molto più sì cioè c'è adesso però c'è adesso infatti è interessante cioè per Aristotele c'è all'origine l'autarchia lui dice che c'è alla fine l'autarchia esatto è vero in senso politico è vero però uno dice perdi la tua libertà la tua che è necessaria per la tua vita che cosa la tua vita autonoma se non altro l'autarchia ma anche autonomia cioè darsi la legge certo beh ok è interessante io immagino che poi il discorso sulla libertà venga sviluppato successivamente non in queste prime fasi perché appunto qui non ha proprio parlato per niente di libertà no? ha parlato anzi ha fatto un discorso quasi scientifico nel senso di come alla Hobbes quasi come necessariamente si viene a costituire questa questa comunità perfetta quindi io direi un attimo discutiamo su quello che abbiamo detto fino adesso no? cioè la parte interessante era appunto la pace come questa ordine tra le parti ok? tra l'altro appunto lui dice quest'ordine che si realizza senza impedimenti estrinseci cioè quando non c'è qualcosa da fuori che lo turba e quindi ecco che quello che diciamo prima un aggregarsi un mettersi insieme di elementi apparentemente meccanico quindi causa efficiente che realizza a un certo punto una relazione interna una chiusura quel limite no? quel peras che fa da da limite che realizza la sufficiente autonomia non so perché sì forse adesso autonomia si può anche dire no? non so si può introdurre però è proprio il poter stare insieme in un modo tale che crea una chiusura e quindi inevitabilmente un rapporto con cosa che diventa esterno l'altra comunità e allora a quel punto la necessità dell'autarchia anche come protezione di sé ora lui dice che la città è come un animale una vita animata e quindi questo è il problema che facciamo prima cioè le questioni che fanno problema cioè l'essere umano è un animale che può vivere però soltanto dentro la città animale che compie la sua insoddisfacente costituzione naturale lui stesso dice che la natura non ce la fa da solo nell'uomo no? questo è il primo punto la città è come un animale l'uomo è quell'animale che ha bisogno della città per poter essere esatto esatto e questo mi sembra che questo sia un primo discorso che lui faccia l'altra cosa a un certo punto lui la cosa che mi ha colpito che lui è vero causa finale lo dice soltanto in quel passaggio lì poi quando parla della città parla di terminus cioè parla di limite non di scopo non di fine vero mentre finibus giustamente lo usa quando parla dei fini umani cioè quando gli esseri umani devono poi svolgere dei fini raggiungere dei fini non possono farlo che all'interno della comunità quindi la società qui riprende Aristotele è lo scopo degli scopi è il fine dei fini ma non nel senso dell'organicismo perché tutto quello che io faccio è in funzione della città è che senza la città io non potrei avere dei fini cioè è la cornice che rende possibile l'agire finalistico dell'uomo e quindi un agire propriamente umano si potrebbe dire quindi c'è anche un elemento di interesse è chiaramente duplice intanto io ad esempio ho trovato estremamente interessante il discorso di genesi di tutto ciò che siamo portati a definire come contrapposto alla natura a partire da un discorso invece che punta direttamente sul pensare la natura fino in fondo la natura dell'uomo ma in relazione alla natura dell'animale in relazione alla natura della necessità vitale cioè comunque voglio dire la categoria della vita è protagonista per mezzo dell'animale dell'uomo delle parti delle sue necessità ma è la vita la vita che è sufficiente o che non è sufficiente che è più sufficiente o non sufficiente la vita è uguale natura in questo senso natura però complessificata e quindi questo è sicuramente un elemento di fortissimo di fortissimo interesse secondo me anche di attualità in un qualche modo attualità critica in un qualche modo cioè contro certe dicotomie e e poi l'altro l'altro aspetto è quest'idea qui della riarticolazione del rapporto tra individuo e società non si dà possibilità d'essere dell'individuo umano dell'uomo come singolarità se non a partire dalle condizioni di possibilità che lo vedono come chiamato a svolgere una funzione in una socialità senza tuttavia però in qualche modo richiedere che quindi il singolo sia asservito al tutto nella società perché in realtà sono le funzioni e quindi non diciamo lui dice le classi sociali cioè le funzioni sociali che sono in qualche modo necessarie all'esistenza della società ma l'individuo dentro la funzione che svolge ha ovviamente un margine di libertà che gli ha reso anzi possibile dall'esistenza stessa della società quindi in questo direi che anzi è veramente molto attuale perché la disfunzionalità della democrazia la disfunzionalità della democrazia perché la democrazia non ce la fa perché è costantemente in pericolo perché non funziona beh un'analisi potrebbe appunto andare a parare da un lato come dici tu appunto sulla problematizzazione di alcuni concetti fondanti della democrazia moderna appunto l'opposizione natura ragione che qui è battuta in breccia ma anche su questa idea appunto della che cosa vuol dire svolgere un compito un ruolo dentro una società se tu non ti pensi come individuo isolato che poi va a essere parte della società ma pensi che la società stessa è ciò che ti rende possibile il tuo agire quindi la tua stessa ragione ecco anche questo l'altro termine l'altra cosa questione è la razionalità sociale la crisi della democrazia è anche una crisi della razionalità sociale e tutti i dibattiti di questo periodo sulla follia che emerge in tempi di crisi non riusciamo a trovare la barra è anche proprio questa autonomizzarsi della ragione individuale che diventa follia perché non c'è una matrice comune non c'è un ordine condiviso su cui la ragione si staglia che non è appunto qualcosa di indipendente della ragione questi mi sembrano termini importanti molto molto importanti quindi Marsilio dialoga con il presente direi in maniera molto proficua bene è molto divertente spero che qualcuno che lo senta si diverta come noi grazie Federico lo dobbiamo rifare possibilmente presto con qualche altro testo ciao un piacere ciao e ciao a tutti e un ringraziamento a chi ci ha ascoltato ciao 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 ciao